question time buonasera allora question time di oggi con roberto merchioli per l'associazione civile a chi c'è e il tema è parafrasare lucio dalla caramico di scrivo e quindi questo cara che che sembra che ormai incombe da vicino sul civile vecchia 298 ci ha detto in un'intervista andrea tangelo il numero esatto dei partecipanti al cara sì buonasera a tutti questo cara è stato parturito il nome è esatto perché costa un sacco di soldi allo stato italiano quindi su questo non c'è dubbio stato parturito in tempi diversi quando parecchi mesi fa sembrava che ci fosse una generale predisposizione verso l'accoglienza purtroppo questa cosa è venuta un po a meno si stanno ripetendo in discussione tutta una serie di rapporti anche internazionali si sta rivedendo un po questo discorso dell'accoglienza perché l'accoglienza dovrebbe essere distinta ma senza entrare nei vari meccanismi eccetera c'è l'olanda capofila esatto non migranti e non euro non migranti c'è la svezia che dice chiudiamo la frontiera poi è notizia di oggi che diamo 200 milioni di euro alla turchia per i migranti carriero di turchia però per noi ancora renzi non ha chiesto una cifra precisa è notizia di qualche giorno fa che praticamente la svezia che produce una quantità di carne di maiale molto alta obbliga a mangiare la carne di maiale perché anche quelli che sono lì stranieri gli migranti debbano mangiare quella carne non volevano mangiarla no sembra una cosa sciocca ma questo il rapporto anche tu facevi il ragionamento con renzi è il ragionamento che noi alle nostre statua le nostre cose avevamo coperte perché se no gli stranieri insomma vale il giusto detto mangi sta minestra non te butti la finestra il discorso è molto complicato ma ritorniamo più alle cose così di civile vecchia penso che oggi parlare ancora di cara sia una cosa sbagliatissima sbagliata perché come dicevamo il discorso dell'accoglienza è cambiata sbagliata perché poi mettere 300 persone 298 per la precisione anch'io sono a conoscenza di questo numero alla periferia di civile vecchia tutti insieme eccetera non significa assolutamente integrazione ma significa metterli ghettizzarli proprio e quindi io lo dico sempre questo dovrebbe essere un discorso poi fatto nella continuità cambiando magari 298 con altri 298 e questo sarebbe un altro un'altra difficoltà da affrontarsi se tutti i 298 potrebbero essere sembra sembra che dovrebbe essere proprio un centro di smistamento ufficiale del centro Italia e quindi qui non è solo una cosa a tempo è una cosa a tempo determinato perché i migranti in Italia arrivano e c'è il famoso fatto che dobbiamo schedarli che dobbiamo fare noi italiani per quelli che arrivano in Italia la prima scheda questo merita questo questo ha diritto questo non ha diritto e di conseguenza smistarli quindi come minimo avrebbero non si sa quanto inquinamento da trassi quindi smistamento con quale percentuale poi di controllo punto interrogativo ma non perché debbano essere controllati ma perché c'è una perdita fisiologica nello smistamento di persone che poi magari andrebbero ad accumularsi non ci scordiamo che adesso le immagini che vengono da tutta Italia sono molto pessimistiche ci sono i centri ma non ci sono i controlli a Civitavecchia attualmente fra quelli regolari e quelli regolari ci sono circa 5.000 persone 5.000 stranieri il 10% della popolazione e insomma non è male ecco allora noi diciamo che noi siamo per l'accoglienza ma un'accoglienza che deve essere una integrazione vera ipocrita e fittizia allora diciamo prima di tutti guardiamo con il prefetto perché vedo e sento anche delle varie traspirazioni è quello dell'ammunizione e beh va beh lì ci vuole essere pure il conflitto di interesse però ci dico caso strano se l'arbitro mi ammunisce poi dopo guarda che la partita dopo può tornare all'arbitro insomma uno chiare sempre il cambio dell'arbitro quando l'arbitro si comporta male per lo meno nel campo calcistico presunto tale comportamento però io dico a parte il discorso di come fare l'integrazione io dico è l'ennesima occasione persa dalla giunta 5 stelle che si trova a gestire questa richiesta da parte dello stato centrale per tranne un minimo vantaggio io dico abbiamo da mettere questi migranti qua diciamo è un obbligo potremmo fare le barricate potremmo opporci no no non condivido dico potremmo opporci no le barricate potremmo opporci a questa decisione allora se io vado a trattare perché con il prefetto si sta facendo una trattativa giusto con la prefettura ma io dico è possibile che una caserma che non si sa quanti metri quadrati ha chilometri di spazio di aria ne prendano solo una parte che viene allestita con le barberie con i negozi per questi migranti noi non pigliamo un altro quarto di caserma e lo adeguiamo per la emergenza abitativa a spese e chi ci chiede questo? mi sembra ragionevole il tuo discorso ma io non voglio farlo in questa direzione io voglio dire che quella caserma non deve accogliere le 300 persone allora le 300 persone devono essere di meno perché devono essere di meno? perché dovremmo prendere noi la quota che è collegata a tutta una serie di situazioni che riguardano tutti i comuni d'Italia che già abbiamo superato quindi vabbè però dovremmo accogliere quella quota lì in proporzione alla grandezza della nostra città ma quelli che dobbiamo accogliere io parlo di integrazione vera perché io sono per l'integrazione vera dovrebbero essere divisi in tanti piccoli gruppi per tutta la città allora sì che sarebbe integrazione allora sì che questa gente potrebbe essere non dico controllata ma guardata inserita nel sistema eccetera ritengo proprio che la cosa più sbagliata indipendentemente dalle altre motivazioni che sono abbastanza lunghe a trattare eccetera esiste proprio un difetto di base in questo quello di mettere 300 298 persone insieme che sicuramente torno a ripetere non è integrazione ma ipocrisia pensare di cambiare quel ragionamento con il razzismo con tutto io credo che loro neanche ci sono arrivati a questo perché qui se fanno un centro di scambio è semplicemente dove si mette il bollino blu o il bollino rosso cosa che l'Italia deve fare perché se no non becca i contributi voi per per l'accoglienza di migranti e tutte altre cose del genere e quindi noi ci troviamo a gestire in pratica un check control un check point come si dice adesso dove dice ah te ferma tu chi sei e vieni qua però questo giro dei 300 poi comporta un altro giro dei soldi che gestisce la prefettura e quindi tutta la cosa che non va bene quindi io questo dicevo se proprio va fatto perché ti hanno obbligato ma dimostrateci che mi hanno obbligato perché anche questo la città dovrebbe sapere me l'ha obbligato tizio o caio poi quando uno torna a votare io lo dici non sono contento beh nella forma civile so che domani di ripostare sì però ce l'hanno obbligato sì allora se è un obbligo cerca di tirar fuori un'altra situazione a vantaggio della città invece sembra che dalla minoranza hanno detto cerchiamo almeno di far lavorare la gente delle partecipate nei servizi così non ci sono più problemi di quell'occupazione forse il bilancio della partecipata aumenta perché comunque questa gente se va guardata va come diceva vestita stirata mangiata e dormita sì il tuo è un ragionamento molto più completo io invece intendo fare un discorso da associazionismo da difesa però l'integrazione vera che dici tu è giustissima è fatta la quota però mi pare che già 5.000 ci sono a Civitavecchia è certo e quindi già ce ne abbiamo 5.000 che è una quota abnorme rispetto ai 50.000 residenti io dico a questa amministrazione più semplicemente che è un fatto da ritrattare con il prefetto di vederlo nelle sue diverse sfaccettature so che domani c'è una riunione lì in zona degli abitanti lì si scatena un altro tipo di problema quegli abitanti sono più penalizzati di altri perché sono più vicini all'ipotesi del problema e quindi è un problemone se funzionasse questo eventuale cara di Civitavecchia come funziona quello dalla Sicilia o quell'altra perché lì abbiamo avuto non micro criminalità abbiamo avuto fatti criminosi diciamo all'ordine del giorno e non micro però il concetto è sta trattando deve trattare senza condizioni senza porre condizioni no quello che dici tu è diverso si sta rendendo senza condizioni invece secondo noi deve trattare e mettere delle condizioni così come l'hanno fatto anche altri sindaci in altre parti perché insomma è l'argomento quasi del giorno questo tu apri la televisione e vedi che da tutte le parti c'è questo ragionamento in atto insomma noi dobbiamo cercare come cittadini di Civitavecchia difendere la qualità della vita nella nostra città ma senza disdegnare quello che potrebbe essere considerato un fatto anche positivo ma non prendendoci tutte le responsabilità tutte le colpe di quello che succederà in futuro collegato a un'operazione che non ci lascia per niente tranquilli ok questo è il parere grande parere di Roberto Merciori di la situazione c'è che c'è sulla questione cara che ovviamente da dopodomani sarà dibattito di tutta la città perché dopo questo incontro e questa visita qualche cosa dovrà uscire fuori buonasera e alla prossima buonasera grazie a tutti